Vigilia di Pasqua all'insegna di Oviduri e Radic ad Arco nella piazza della Chiesa Collegiata. Su iniziativa di Piero Zocca del Gelatiere e di Enzo Benedetti del Ristorante alla Lega, con il solito gruppo di volontari del relativo comitato, ha distribuito gratuitamente il tipico piatto pasquale nel tardo pomeriggio per il piacere della gola non solo dei locali ma anche dei tanti turisti, specialmente tedeschi, che hanno magnificato la bontà delle prelibatezze locali. Lo stesso rito si è tenuto alla mattina anche a Riva, sempre la vigilia di Pasqua, dove il club Bacionela in Piazza delle Erbe ha organizzato come per il passato l'analoga iniziativa. Più di 2.500 le uova distribuite sia ad Arco che a Riva. Grazie quindi ai volontari arcensi e rivani si è ancora una volta concretizzato un bel aspetto dell'ospitalità altogardesana.